Ehi Coop, è il tizio che devo trovare. Chi ha ucciso? Che ti importa? È solo una taglia da recuperare, no? Certo, lui non mi interessa. Voglio solo sapere chi era. Uno di loro si chiamava Randall. È rimasto con noi quasi un anno. Gli altri due non li conoscevo. Vuoi che chieda? No, lascia perdere. Se trovi quel figlio di puttana, chiamami. Copland, chiudo. Ci sono. Vediamo. Dove? È la pista giusta. Eccolo! Casco d'argento! Servatoio rosso! Per lui! Merda! Che diavolo! E così hai pensato di presentarti al campo di Copland e iniziare a sparare, giusto? Hai ammazzato qualche poveraccio, rubato quella e sei ripartito con me. Fussi al centro commerciale. Ti manda Copland? Che vada all'inferno! La mia moto! Andiamo! All'inferno! No, 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 no! All'amato, no! No! Che cosa... che cosa hai fatto? Figlio di puttana! Ehi, no, 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 no! Beh, Cop è un po' contrario. E non piace neanche a me a dire il vero. Rovina la reputazione dei randaggi. E se avessi sparato a Manny? Chi mi avrebbe riparato la moto? Stupido pezzo di merda. Va all'inferno! Sei uno dei leccacolo di Copland! Sei soltanto... Sei solo una puttana! Sei... La sua puttana! Coop, è finita. Te l'ho preso. Segnati queste coordinate e mandati i tuoi uomini. Il randaggio. È vivo? Il randaggio. Sì, è vivo, ma non posso prometterti che lo resterà a lungo. Dico, un chiudo. Buser, mi senti? Voglio sapere come stai. Sì, Dic, sono qui. Tieni duro, amico. Non appena si sistema il braccio andiamo a nord. Come volevi. Eh, è quello che spero. Mi manca la strada. Ora pensa solo a guarire. Io finisco un lavoro con la moto, noi prepariamo le scorte per il viaggio, ma è appena possibile. Ce ne andiamo. Passo e chiudo. Non ci controllare! Padova! Ma Mister! Ciao! Con calma! Riposa in pace, ora non ti avranno. Riposa in pace, ora non ti avranno. Un angelo piangente deve essere qui. Dove hai nascosto il malloppo, Leon? Da che parte? Forse in una di queste? Forse in una di queste... Ci sono. Ora devo solo decidere a chi consegnarli. Buser! Buser, mi senti? Da non crederci, ho appena visto un cazzo di elicottero! Un elicottero? Stai scherzando? Un elicottero della Nero! Mi hai appena passato sopra, ignorandomi del tutto! Dopo tutto questo tempo salta fuori un elicottero dei federali dal nulla! Voglio seguirlo e soprattutto capire cosa diavolo stanno facendo! Ehi Dick! Stai attento, non avvicinarti troppo finché non avrai scoperto cosa hanno in mente! E non fare cazzate! Certo che no, non correrò a rischi! Ehi, 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 aspetta, aspetta! Stanno rallentando! A quanto pare si fermano! Ascoltate, dovete isolare l'intero perimetro! Sono stato chiaro! Muoversi! Chiudeletta! Andiamo! Ci sono! D'accordo! Ci muoviamo! Ricercatori della Nero, perché sono qui? Devo spiarli, capire che fanno! Ok, devo fare silenzio! Se lanciassi un sesso, potrebbe distrarli! Se mi vedono, sono morto! Hai sentito qualcosa? Coraggio, vai a controllare! Qui fuori? Si, Jane! Controlla la temperatura della tuta! Cazzo, che freddo! Riscalda la tuta, no? Comincia a piovere! Ok! Non vi ho già direi fuoiosi! Merda! Nota operativa 2-0-0-0 Dopo aver seguito un esteso gruppo in movimento, dimensioni tra 5 e 600 unità, abbiamo confermato l'ibernazione dei soggetti nella... Ehi, Doc, c'è il sito 23 in programma per domani, tocca a noi! No, a O'Brien! Ok! Cazzo, dove ero rimasta? Sì, abbiamo confermato l'ibernazione dei soggetti nella grotta di High Desert, ora disegnata come sito 15. Le tracce sulla vegetazione, la presenza di impronte e vedi foto allegate, indicano che il sito è stato occupato per qualche tempo. Deve essere un posticino confortevole. Secondo il sensore di movimento installato dal tenente O'Brien, questa mattina sono entrati nella caverna 447 soggetti. Suggerisco di inviare una squadra dopo le 19.00 per valutare le condizioni all'interno della caverna. Nota per il dottore Anderson, la tua teoria secondo cui i soggetti sviluppano un primitivo stadio di comportamento notturno appare sempre più fondata. Fine del rapporto. Non vuole entrare? Non hai sentito? Più di 400 soggetti. E non sono i classici curiosi a cui siamo abituati. Sono allo stadio 3. Torgono tutti come bambini. E comunque chiedevo per lei. Io lì non ci metto piede. Torgono, sono in ibernazione. Hai mai svegliato un forse letargo? No. Hai mai svegliato un furioso ibernato? In realtà sì. Ero uno dei superstiti alla miniera di White King. Dio santo. Uno ha scuogliato un mio amico sbucciandolo come una banana. Queste tote proteggono da molti pericoli, ma non da loro. Per la miseria, caporale. Gesù, io... Mi dispiace. Quella missione era una tragedia annunciata. Infatti, per questo è meglio restare fuori. Se bloccassi l'entrata della grotta, crede che potremmo almeno ridurli di numero? Non so, caporale. Ci sono diversi tunnel nei paraggi. Andiamocene da qui. Sigiliare le caverne? Certo, come se a qualcuno fregasse. Per quanto ne abbiamo ancora. E come faccio a saperlo? Dobbiamo aspettare che Doc finisca. E comunque, cosa ci facciamo qui fuori? Seguiamo gli ordini. Ti basta? Tre cispuglie. È un buon nascondiglio. Qualcun altro l'ha sentito? Che ore sono? Ti si è rotto il display della tuta? Mi ritiriamo! A bordo, a bordo! Muoversi, muoversi! Via, via, via! Andiamo! A bordo, a bordo! Guser, sei lì? Guser, rispondi! Ehi, Dick, dimmi. Quando lasciamo ferme, ricordi il tizio della Nero, il militare, o quello che era, che prese Sara con sé? Aspetta, che stai... Aveva un tesserino. Come si chiamava? Oddio, oh Brian, non hai fatto che parlarne per tutto il tragitto fino al Three Finger Jack. Ok, è ancora vivo, Guser. È vivo. Che stai dicendo? Eravamo lì, hai visto in che stato era ridotto il campo? No, quello lo so, ma ho... Sentitelo! Ok, ascolta, sono stato alla zona d'atterraggio. Aspetta, aspetta! Alla zona d'atterraggio? Ma che... Lasciami finire, ho sentito che parlavano alla radio. Parlavano di un tale, di nome O'Brien. Dick, non... Tranquillo, Guser, tranquillo. Comunque, ora riposati. Dick, non chiudo. C'è che non è la strada, diavolo. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. L'inizio di questo inferno non ha sorpreso tutti. Solo i pazzi che mi ignoravano quando il mondo è andato a puttane. Non ero il solo a criticare i federali, sia chiaro. Ma ad altri miei compagni purtroppo non è andata altrettanto bene. I cimiteri sono pieni di martiri che hanno cercato di denunciare le falsità e le ipocresie sotto i loro occhi. E io lo so. Perché quei bastardi hanno cercato anche me. Ho fondato Radio Free Oregon nelle ultime settimane prima che il governo cadesse. Trasmettevo da un furgone anonimo, viaggiando di città in città prima che le strade finissero intasate di auto e i ponti distrutti nel tentativo di fermare i furiosi. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Credete alle menzogne. No, Coppi, i cimiteri sono pieni di furiosi, non di martiri. E non potevi fermarti perché se avessero visto il tuo furgone anonimo l'avrebbero fatto saltare. Ma almeno non mi sarei sorbeto le tue cazzate su Radio Free Oregon. Ma che diavolo? Vale la pena controllare. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Il cielo è solcato di nuovo da elicotteri neri. Se li avete visti, o sentiti anche noi, tranquilli, non siete impazziti. Esistono davvero. E sono la prova che avevo ragione. Pensavamo che i membri della Nero avessero tirato le cuoia come tutti gli altri, uccisi dalla loro stessa idiozia. Invece, sono rimasti nascosti per nesi. Finché non è arrivato il momento di strisciare fuori dai loro covi per reclamare il dominio del mondo. Ma non succederà. Non posso permetterlo. E non correte da loro sperando che vi salvino la pelle. Tutti i soldati con un barlume di coscienza sono morti più di due anni fa. Questi vigliacchi ne vi spareranno a vista. Qui in Marca Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Andiamo, Cobb. Non vogliono reclamare proprio niente. Ti stai inventando un mucchio di cazzate. Beh, tranne una. Sì, vi spareranno a vista per tua fortuna. Abbiamo visita. È uno di quei Biker Boys. Apri. Dove sono Tucker e Al-Kai? Nella zona degli scavi. È quale, porca troia. Quella a nord. Là dietro. Se qualcuno tocca la moto o quello che c'è sopra ti spezzo le dita. Come vuoi, amico. Cristo. Te l'ho detto. Ha perdita d'occhio. È tutta un'unica distesa di lava. 25 piedi di roccia compatta. Servono martelli pneumatici. Non sono un idiota. Accidenti. Ho capito. No, certo. Ma questa gente ha fame. Anche fossero in forze, impiegherebbero mesi per finire con vanghe piccole. Non me ne frega un cazzo! Abbiamo tutti fame, Al. Ma questo lavoro va portato a termine a costo di impiegarci un anno. Tanto nessuno ha altri impegni, mi pare. Aspetta. Non ho finito. Allora muoviti, ok, Al? Ho parecchio da fare. I ripugnanti. Stamattina uno dei miei ha avvistato un gruppo che superava il passo. E nessuno li ha fermati. Ma come cazzo? Tucker, sai che siamo a corte di uomini. E sono diretti a nord? Al, stanno venendo verso di noi! Sì o no? Io... non lo so. Ma forse lui sì. Che diavolo hai, mi dice ora? Che cosa vuoi, eh? Diavolo, Al-Kai. Non è compito suo. Dovresti essere tu a saperlo. Cazzo! Non posso essere in due posti insieme. Vuoi che resti qui a gestire gli scavi o che vada in giro per l'incubo a caccia di ripugnanti? Controlla quante munizioni abbiamo nei magazzini. farò sorvegliare gli scavi a Wheeler. Che hai da guardare? Sto aspettando che diventi intelligente. No! Hai trovato Leon? Per fortuna c'è ancora qualcuno che sa il fatto suo. vieni con me. Quanto è passato dall'ultima volta che mi hai portato qualcuno? la gente rimasta viva nell'incubo non corrisponde ai tuoi requisiti. La febbre ne ha uccisi altri due. Non è un mio problema. Se vuoi il nostro cibo ti assicuro che lo è. Te l'ho detto usciremo a caccia per te ma non ci veniremo mai al tuo campo. Abbi pazienza la mia memoria perde colpi. Per quale motivo? Perché sarebbe una perdita di tempo Tuck. Ho sempre apprezzato il tuo ottimismo. Dov'è Buser? Ha detto che sarebbe andato al campo di Copland voleva scambiare del pesce. Non sarete in combutta con Cope? Il suo campo è più vicino? Non è una questione di distanza. Ascolta non sono sua moglie Buser va dove gli pare. Gesù lo tenete acceso giorno e notte. I cadaveri dei furiosi si accumulano grazie all'onesto lavoro di uomini come te. Cavolo se lo teniamo acceso. Usate più benzina accelera la combustione e riduce il fumo. Come se ne avessimo da buttare. Quando sarà finita come farai andare la moto? A calci e sputi? Che cosa diavolo succede qui? I conti non tornano in magazzino mancano cibo e munizioni. Gesù chi era di guardia ieri notte? Wheeler Da stanotte era a doppia i turni questa storia inizia a stancarmi. Ricevuto? Problemi di famiglia? Te l'ho detto un accampamento è come una prigione. Una comunità di fanulloni bugiardi ladri violentatori e assassini. E sai perché? Non ne ho idea. Perché siamo così pazzi furiosi. Sono sopravvissuti solo quelli abbastanza cattivi e incazzati da essere peggiori dei furiosi stessi. Gli altri sono finiti qui nella speranza che io fornisca cibo, protezione e un letto caldo su cui guardare il mondo che muore. Ehi tu torna al lavoro non costringermi a chiamare Cyrus. Maledetti bastardi nel tempo libero possono ciondolare finché vogliono ma di giorno sono miei. Gestire questo campo è come dirigere una prigione. Mi avevi detto qualcosa riguardo sbaglio eri una specie di direttrice carceraria. Niente di così prestigioso ero la rappresentante della sezione femminile ma tu hai l'aria di uno che potrebbe essere stato al fresco ai tempi sei mai stato ospite? Mi sono cacciato nei guai ma senza mai finire a Clamath. Ho un lavoro per te ieri Larsen è uscito in missione e passando per Marion Forks ha visto qualcuno una giovane donna pare ma l'ha solo intravista si è fermata a cercarla ma non l'ha trovata. È sicuro? Larsen ha la tua stessa esperienza sa distinguere una persona da un mostro ma tu possiedi un talento speciale vai laggiù e trova la prima dei furiosi. Vedrò quello che posso fare ma Tak voglio il resto dei miei crediti per Leon. Portami altri corpi caldi e ti darò tutti i crediti che vuoi. Devo andare a cercare Wheeler qualcuno vuole farsi una notte nella Stamberga. Alcai che vuoi randaggio? Che problema hai? Uno dei miei era in un campo di ripugnanti giù ad Iron Butte l'hanno torturato come fanno sempre ma volevano anche sapere se conoscesse due motociclisti uomini se li avesse mai visti o sentiti. girano parecchie moto qui ma che cosa c'entro io? Li chiamavano Mongrel. Quanti randaggi hanno una banda adesso? Come se avesse senso. Secondo me hai una taglia sulla testa che si prova a stare dall'altra parte. Al, perché non mi mostri quello che hai? Non ho tempo per le tue stronzate. Come vuoi, Dick. Usa, ci sei? Sì, Dick. Ha risorto. Come andare, sì. Grazie, fratello. Lei l'avrebbe fatto per noi. Sì, sono sicuro. Aiuto, per favore! merda, qualcuno ha bisogno d'aiuto. Aiuti! Non voglio morire! Aiuto! Aiuto! resisti! Ci penso io. Morirai se resti qui, ma conosco un campo sicuro. Un accampamento. Sì, sì, dove? Ti prego, ti prego, dimmi dov'è. Andrò lì. Peaceful Lake, Mark Copland. È sicuro lì? Avevo perso le speranze, grazie di cuore, amico. Fai questo nome, Deacon. Mi conoscono. Ok, ora scappa e non farti vedere. Servono sempre. John, mi ricevi? Giorni fa ho parlato con Al-Kai e con altri del gruppo. So che hai sbrigato diverse missioni per il campo e volevo ringraziarti. e che hai sbrigato. Fare 탑 DNA contempt se 2 A 4 4 4 Grazie per la visione!